Una polemica politica che nasce da lontano per esplodere in maniera virulenta un mese prima del voto delle amministrative di giugno, quando la Lega aveva proposto un proprio candidato. Poi il centrodestra si è ricompattato attorno al sindaco uscente Ottavio De Martinis, che è stato rieletto. In questo primo mese e mezzo però la situazione è rimasta difficile, con la Lega e il suo unico consigliere eletto che si sentono emarginati. Qualcuno ha pensato che la Lega oggi non facesse parte in realtà della maggioranza, infatti non vi è stata nessuna traccia di riunione tra Lega e forze del centrodestra nella composizione della giunta e soprattutto ancora fatto più grave nella composizione delle varie commissioni, la Lega non è stata mai chiamata alla trattativa. Chiedo al sindaco motivazioni precise su questa posizione, ma chiedo stesse motivazioni anche ai partiti alleati. Torno a ribadire, cosa che ho già fatto, che Fratelli d'Italia cinque anni fa era l'8-9%, a Montesilvano legittimamente e giustamente gli è stata riconosciuta la posizione. A lei si sente nella maggioranza, soprattutto crede che a questo punto la polemica sia oltre che di natura politica anche di natura personale? Io non so se sia di natura personale, ma certo io non ho nulla di personale con nessuno. Se qualcuno ha qualcosa di personale con il partito non può mettere la mia persona nel tritacarne politica. Io non sono in cerca di poltroni, chi mi conosce lo sa e non ho necessità di poltroni. Delincente, se a questo punto è possibile prevedere una tregua? Ma guardi, io sono un tipo molto tranquillo per me, le tregue sono le cose più auspicabili, quelle più che rientrano nel mio modo di fare, quindi io sono pronto a qualsiasi cosa, perché poi nella vita si può errare, si può sbagliare, può succedere a me, a tutti, un'incomprensione o un'altra cosa. Io sono pronto a qualsiasi cosa, l'importante è che si capiscono realmente i motivi di queste decisioni e che la gente capisca veramente la motivazione di certe decisioni.